Mi chiamo Valentina, sono una designer e il mio progetto è Tune. È un progetto che è trattato come un dispositivo per il miglioramento del controllo motorio, pensato in questa fase per l'articolazione del ginocchio, ma il cui concetto di funzionamento è potenzialmente applicabile a diverse parti del corpo. E questo concetto si basa sulla sonificazione del movimento, ossia la traduzione dei parametri di movimento in parametri sonori. Attraverso questo feedback sonoro il dispositivo restituirà all'utente una serie di informazioni di biofeedback che aiuteranno l'utente a incrementare la sua percezione del movimento e in generale ad ottenere una migliore risposta neurologica, neurofisiologica in termini di programmazione, esecuzione e controllo del movimento. E' un evento che sicuramente fa convergere una serie di persone di vari settori diversi, di varie realtà e comunque è un ambiente dinamico e multidisciplinare che in qualche modo stimola l'innovazione ma soprattutto la conoscenza di altre realtà che è stimolante per ogni progetto presente all'interno di questo evento. Grazie a tutti.